Oroscopi, oroscopi, oroscopi. Alzi la mano chi dice io non credo agli oroscopi, però si trova poi la rivista con l'oroscopo per il suo segno e si mette a leggerlo. Ecco, io sono così, non credo agli oroscopi, però se mi capita il mio oroscopo lo leggo, sono acquario, acquario, segno indipendente, eccetera, eccetera. Ora, ci sono studi, più che studi, esperimenti che hanno fatto, che hanno dimostrato come se ti faccio leggere un oroscopo e ti dico questo è del tuo segno, tu lo leggi e dici ah sì sì sono effettivamente così, anche se magari ti sto facendo leggere quello che solitamente viene attribuito a un altro segno. Però ultimamente ho iniziato a ricredermi, non tanto perché credo all'astrologia, alla divinazione, le stelle, queste cose qua, anche perché se così fosse, se realmente la posizione delle stelle determinasse il mio destino, Allora un acquario nato in Australia dovrebbe essere molto diverso da un acquario nato in Italia perché le costellazioni in quel momento ti trovi da un'altra parte del globo, non lo so. Comunque ultimamente ho cominciato a ricredermi perché, per un altro ragionamento, perché io so per certo che quello che la mamma mangia quando è incinta ha poi un effetto sul feto e anche sullo sviluppo del cervello del nascituro. Quindi, fermo restando questo fatto qua, è chiaro che quello che la mamma mangia quando è incinta determinerà alcune caratteristiche proprio caratteriali del bambino o della bambina perché lo sappiamo tutto quello che noi facciamo, Altro non è che è una reazione chimica, gli aminoacidi nel cervello è una reazione chimica e non tanto adesso ma 50-100 anni fa le donne incinte tendevano a mangiare solo le cose che erano presenti sul mercato perché erano di stagione. Prima i pomodori si mangiavano solo d'estate, me lo ricordo anch'io quando ero bambina e le fragole si mangiavano solo quando è a maggio, non mi ricordo. Quindi le donne incinte mangiavano solo i frutti di stagione e tutte le donne incinte contemporaneamente mangiavano le stesse cose. Quindi può darsi che effettivamente il cibo della mamma assunto durante la gravidanza abbia poi un effetto, un impatto sullo sviluppo del cervello ma anche sul carattere del nascituro. Non lo so, questa è una teoria che mi è venuta così in mente, non so se l'abbia già avanzata un'altra persona. Dovrei fare delle ricerche, sinceramente non me ne frega abbastanza da farci delle ricerche, io ve la butto lì così, poi prendete quello che vi pare e comunque l'acquario è un segno zodiacale indipendente. Lo sanno tutti!